Per il tuo capodanno scegli Ristorante Baldino Usini, menù ricchissimo con particolarità come melanzane al mascarpone, insalata di calamari, cicale di mare, fregola all'astice, crepes ai frutti di mare, andarinos al cinghiale, gamberi e orata al forno e tanto altro. E tutto a 80 euro e i bambini piccoli gratis con l'open bar per tutta la notte. Menù completo sulla pagina Facebook Ristorante Pizzeria Pasticceria Baldino.